Come ti senti sul liceo? Iniziali in la terza linea e poi in terza periodo eri in la terza linea quindi magari ti senti più e più iniziare? Non mi piace il termine di terza linea, di terza linea, di terza linea ma di terza linea, di terza linea, di terza linea e di terza linea che prendiamo molto di credenza in il nostro team è che siamo un gruppo equilibrato inizialmente quindi non importa chi mi spiego con in all honesty ovviamente ho spiegato la maggior parte della sezione con Inti e Alex quindi c'è un po' familiarità ma inizialmente è irrelevante per me la cosa più importante per me è che mi senti meglio quando il gioco è progressato e per me è inizialmente quindi spero che continuo inizialmente potresti spiegare a noi cosa era il tuo inizio? era una concussione o un accent? e hai venuto negli U.S. per cercare di migliorare? cosa era il tuo recupero? ho avuto un inizio upper body ok ok per un momento Amri ha detto che stiamo spiegando il mercato per cercare di trovare un sostituto quindi come ti senti? pensi per un momento che magari la tua sezione è finita? era male per te? come hai pensato? non ho mai pensato non ho mai pensato ma la mia priorità era essere sospettato e tornare a terra sull'isca quindi questo era il mio sole focus Amri è ora in play-off è qualcosa di grande per il team per il club e per i fanci credo che sia un grande ragazzo per te che hai venuto un anno passato cosa puoi dire su questo? credo che sia un testamento ai ragazzi in questo luogo dove stiamo non è solo indicato di lavoro che abbiamo fatto questo processo l'anno scorso l'anno scorso e c'è molto c'è molto bene credo è molto meglio sapere che stai in la giocità invece in dire che abbiamo in una buona situazione per avere un successo abbiamo molto confidazione e sarà molto divertente ora l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso cosa può fare per fare meglio e cercare punti? ora credo è più importante che fokussiamo sul processo invece risultati non credo l'anno scorso 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 è molto così credo che che stai l'anno scorso 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 l'anno scorso